Ancora bentrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradaria regionale. Prudenza per perdita di carico in A1 tra Valdarno e Cisareggello e in direzione nord. Si tratta di Sacchi dell'Immondizia. Ci spostiamo in Fiberì per lavori rallentamenti nelle due direzioni tra Empoli e Montelupo. Ricordiamo inoltre la chiusura dello svincolo di Empoli Est in entrata verso Firenze. Siamo al traffico navale per maltempo. Sono cancellati i traghetti Piombino-Cavo delle 14.55 e delle 16.05. Cancellato inoltre il collegamento Capraia-Isola-Livorno delle 17.45. Può avere Sì Toscana-Mipo è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio. Grazie. Grazie. Grazie.